Una cosa è certa, le tre giornate di rinvio imposte dalla Lega il campionato l'hanno falsato. A danno dell'Arezzo però, a vedere le prestazioni di Viterbo e soprattutto quella casalinga contro la Lega Vorrano, appare evidente come nel periodo di stop forzato abbia fatto male agli Amaranto, sia nella testa che nelle gambe. Psicologicamente è stato uno stilicidio con il rischio concreto di non tornare più in campo. Dal punto di vista fisico, le settimane trascorse a guardare gli altri giocare sono state una zavorra. Gli Amaranto hanno perso il ritmo e smalto, la volontà non manca, ma in campo va una squadra troppo compassata. Le assenze poi hanno fatto il resto. L'esatto contrario di quanto sostengono a Gavorrano, che sabato si sono presentati alla Comunale, niente meno che con i bodyguard privati, temendo un'accoglienza ostile che non c'è stata. A fine gara l'AIDS dei Maremani Vetrini ha smorzato i toni, ma ha ribadito il concetto, e cioè che rinvia hanno favorito l'Arezzo. Una tesi difficilmente condivisibile, visto che adesso gli Amaranto dovranno giocare ogni tre giorni, fino a metà aprile, e non si capisce che vantaggio ne avrà. E dovrà farlo senza Moscardelli, la cui assenza pesa oltre l'immaginabile. Senza il capitano davanti a Nottefonda, il gol manca da 407 minuti. Le alternative non offrono garanzie. Di Nardo è troppo acerbo, regolante evanescente, Cellini con appena un quarto d'ora di autonomia. A fare da contraltare il buon debutto di Semprini, alternativa preziosa in difesa, e le recupero di Lulli in mediana. A Piacenza torneranno Varga, Cenette e Muscat. L'infermeria dunque si svuota. Il momento è delicato e c'è bisogno di tutti, con la speranza che la Dea Bendata torni a ricordare.